si riparte con oce all'aperto buongiorno amici bentornati all'appuntamento settimanale dedicato all'agricoltura bene inizia quindi questo nostro ciclo di incontri e partiamo subito occupandoci di vino abbiamo preso spunto dalla recente Vinitali perché ci sono importanti novità si parlerà anche di quello che verrà nel futuro del settore vitivinicolo ma soprattutto parliamo dei nostri vini frizzanti che vanno gonfie vele anche nel 2011 l'Emilia Romagna si è confermata una delle regioni italiane più capaci di rispondere ai mutamenti del mercato vinicolo realizzando un incremento delle vendite all'estero del 20% in valore rispetto al 2010 e consolidando il già ottimo più 19% messo a segno nell'anno precedente è una regione del vino che gode di buona salute quella che si è presentata la 46e edizione del vinitere di verona con un andamento dell'export nel 2011 che ha fatto registrare l'incremento più alto in italia ma c'è anche la crescente domanda di vini miliano romagnoli di qualità doc di ocg e gt e sempre maggiori riconoscimenti delle principali guide nazionali ed estere oltre ad un crescente interesse da parte dei consumatori anche l'arrivo dell'atteso disciplinare europeo sulla vinificazione delle uve biologiche una conquista importante per i viticoltori bio italiani ed europei che dalla vendemmia 2012 potranno utilizzare il termine vino biologico sulle etichette al posto dell'attuale vino da uve biologiche il biologico non conosce crisi il vino nemmeno tant'è che adesso con la nuova normativa europea si potrà liberamente etichettare quello biologico con la propria etichetta dedicata innanzitutto siamo in una fiera molto positiva e finalmente sentiamo delle note positive sullo sviluppo di un settore alimentare i dati del vino sono molto importanti e fanno sperare bene tutto l'alimentare italiano per noi che lavoriamo nel biologico c'è una nota positiva in più che è stata l'approvazione del regolamento dopo tanti anni dopo tante discussioni oggi possiamo chiamare il vino col suo nome cioè vino biologico e questo è un fatto molto importante perché potremmo commercializzare con delle etichette corrette chiare e quindi proporre al consumatore nel modo più chiaro possibile un prodotto biologico sul piano normativo cosa non è ancora stato fatto che chi produce biologico vorrebbe che si facessi in tempi rapidi? beh noi speriamo in una pratica in una veloce attuazione di quanto è stato approvato e quindi mettere in pratica le nuove norme e sperare che con questo il settore possa trarre quei vantaggi che negli anni passati è stato difficile perché potevamo scrivere solo con uve da produzione biologica oggi è tutto molto più semplice quindi noi speriamo solo che questo possa essere fatto in tempi molto rapidi la superficie coltivata vite secondo il metodo biologico in Emilia Romagna è pari a 2.190 ettari un dato che colloca l'Emilia Romagna ai primi posti nella penisola noi siamo dati Istat la sesta regione italiana per produzione di vino biologico desidero ricordare che nell'ultima guide del Gambano Rosso un pignoletto dei colli bolognesi ha ottenuto i tre bicchieri il massimo dei riconoscimenti e si tratta di un vino prodotto con tecniche biologiche biodinamiche per cui insomma è un mercato che sta crescendo, un mercato importante si conferma un buon momento per i vini Emiliano Romagnoli, Lambruschi ma anche Bianchi, Pignoletto quindi l'exportira, dà soddisfazione quindi economicamente anche agli agricoltori? Beh dovrebbe dare sicuramente maggiori soddisfazioni rispetto agli anni scorsi i prezzi e l'ingrosso sono aumentati e soprattutto è aumentata l'esportazione dei vini sui mercati internazionali più 20% nel 2011 sul 2010 siamo la regione italiana che è aumentata di più da questo punto di vista in assoluto quasi 7 punti percentuali in più rispetto alla media delle altre regioni italiane naturalmente è una stagione che deve continuare e perché possa continuare bisogna tenere questo equilibrio e cioè aumentare molto l'esportazione compensando la diminuzione dei consumi sui mercati interni è nata anche una ristrutturazione del patrimonio vitivinicolo Emiliano Romagnolo quindi ci sono stati molti estirpi ma anche molti rimpianti questo ringiovanimento insomma della viticoltura creava l'ora giunto? Negli ultimi tre anni, tre anni e mezzo sono stati destinati circa 220-230 milioni di euro all'estirpo, 3.600 ettari di vigneto che non aveva mercato è stato tolto alla ristrutturazione e riconversione di quasi 4.500 ettari di vigneto e attraverso il programma di sviluppo rurale siamo intervenuti in modo significativo su altri vigneti e soprattutto sulle cantine per modernizzarle perché poi conta la qualità dell'uva ma conta anche la qualità enologica e delle cantine nel panorama dei frizzanti l'ambrusco sta dando soddisfazione ai produttori è un rosso che si esporta bene e incontra il favore dei consumatori Il Lambrusco tra Modena e Reggio Emilia rappresentiamo circa il 60% delle denominazioni di origine regionali quindi siamo un peso massimo all'interno della regione Il Lambrusco è un prodotto che sta andando bene è un vino di successo insieme ad altri importanti vini nazionali le bollicine incrementano quindi le vendite e il Lambrusco è un campione per le bollicine In particolare su Modena? Beh, su Modena sta andando direi molto bene bisogna sempre avere la massima attenzione a fare affermazioni del genere però se non lo diciamo ora che sta andando bene non saprei quando si possa dire le esportazioni sono al massimo stanno raggiungendo livelli importantissimi a livello locale sta andando bene anche l'organizzazione interna del territorio sta migliorando in modo particolare i produttori stanno innovando sui vigneti nuovi vigneti, nuovi impianti che danno sicuramente una risposta alle cantine Il Lambrusco è il Lambrusco di qualità che ha avuto dei grossi riconoscimenti sulle guide da parte dei sommelier, da parte della ristorazione e via dicendo i dati effettivi per i consumi del Lambrusco non sono in crescita in Italia addirittura sono in leggero calo però sull'esportazione oltre ai paesi tradizionali che sono gli Stati Uniti la Germania, l'Inghilterra l'Inghilterra un po' meno a dire il vero si stanno prendendo grosse opportunità nei nuovi paesi Russia in primis ma anche l'Asia poi c'è questo discorso della Cina discorso molto importante in prospettiva il nostro gruppo attraverso la nostra controllata GIV SPA il primo gennaio ha aperto una società a Shanghai la Shanghai GIV per il momento abbiamo tre persone e anche in Cina da diversi container annuali di Lambrusco li facciamo a proposito di Ferzanti si sta parlando si sta ragionando di unificare due consorti del Pignoletto punta di diamante un po' dei nostri bianchi emiliani sì, indubbiamente il Pignoletto sta avendo un grosso riscontro commerciale e credo che sia un'esigenza dell'area e dei produttori di arrivare a una tutela di questo prodotto nel senso che stiamo assistendo ultimamente a vendite di barbatelle quindi di piantine in diversi paesi soprattutto dell'est Europa e dell'area balcanica quindi si sta pensando a un progetto che dovrà vedere i produttori d'accordo la regione per cercare di fare una cosa simile a quella che è stata fatta un po' per il Prosecco cioè trasformare il Pignoletto da protezione di vitigno in una protezione geografica e fare rientrare in questa orbita gli attuali consorzi che producono questo vino è un vino che sta avendo un ottimo successo noi come riuniteci in particolare con il marchio Righi siamo leader di mercato perché i dati anche ai Rai su una grande distribuzione dicono che noi rappresentiamo circa la metà del Pignoletto venduto e quindi siamo molto sensibili a questa tematica grazie a tutti grazie a tutti